Bravi, complimenti. Grazie. Di dove sei? Di Roma. Di Roma? Però sono partito da Ventimiglia, è un lungo viaggio. Bravi. Grazie. Cos'è che ti dica? Bravi perché? Io mi chiamo Andrea Compalato, abbiamo un blog, anzi veramente una testata giornalistica da un anno, che si chiama ghiossazurla.it e allora quando vediamo persone di buona volontà, di solito sono dei gruppi organizzati. Bravi, complimenti. Grazie mille, ha fatto tutto il giro d'Italia. Eh complimenti, che chiami scusami? Leandro. Leandro. Olivieri. Grazie Leandro. Grazie a voi. Ciao. Ciao a tutti. Allora, Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona, tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono. E niente, ogni tanto un po' di pizza, va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.